Sono molto contento e soddisfatto di essere qua, è un onore essere a questo posto, lo so che sono molto appassionati di basket, molto orgogliosi della squadra che sta migliorando, che sta crescendo e per me, come già ho detto, è veramente un onore essere qua, perché nella mia vita il basket è più importante, come la mia famiglia, perché la mia moglie è anche giovedrice del basket e noi viviamo proprio di basket. Sono qua perché sono stati molto bravi con me, ha dato spazio e tempo per decidere se voglio venire, ha dato fiducia a Alessandro e Flavio e Max allenatore e sono contentissimo di essere qua e che mi sento molto rilassato e bene che ho fatto questa scelta. Poi possiamo parlare di tante cose, milioni di cose, perché, come, quando e dove, però ho fatto la scelta credo che perché voglio giocare, voglio sentire, si dice goosebumps ancora e voglio fare qualcosa per questa squadra e sentire ancora l'enjoyment del basket. Allora. Fisicamente, non so, forse dovete parlare con dottori che ha fatto test. Sto bene. Vediamo. Vediamo. Tutti gli esami che sono stati fatti è un risultato veramente idoneo, però ha una capacità, insomma, di resistenza ancora incredibile, anche se ha 36 anni, però, direi ancora nel piano della forma, soprattutto perché lui comunque ha giocato, non è che è stato fermo, la scorsa stagione ha giocato a altissimo livello. Sessantaquattro partite, direttora Mondo, travo lega... Sessantaquattro partite, direttora partite, direttora partite, direttora partite, direttora partite, Io gli chiedi dieci... Sessantaquattro partite, direttora partite, direttora partite, direttora partite.